Qualcosa per cui, per cui ho pianto, per la cui mancanza la mia anima ha sofferto. Avete altri della vostra razza, avete dei compagni. Avete l'uomo. Potrete tagliare le vostre corde. Vi costerà un'ora di duro lavoro e allora noi avremo preso il largo. Da ciò che hai visto oggi, non hai un po' timore di recarti con me verso la civiltà? Se padrone non timore, venerdì nemmeno.